Grazie Presidente, semplicemente pochi minuti per condividere con i colleghi senatori un po' quello che dicevamo ieri, cioè ieri siamo passati da un momento di esultanza e di felicità per quanto riguarda la parte sugli ostelli della gioventù, siamo passati da un momento di esultanza a questa notte incredulità, eravamo veramente basiti e senza parole, ci siamo trovati a dover assistere al giochetto, al balletto, prima sì, poi no, poi sì, poi no, è dentro, è fuori, è dentro, è fuori. E anche questa mattina sugli organi di informazione abbiamo notato che la questione degli ostelli della gioventù è diventata quasi una questione politica, una questione di partito, una questione dove una parte del partito dice all'altra di sì, una parte del partito, intendo partito di maggioranza all'interno della vostra maggioranza, dice sì, poi dice no, poi dice forse inseriamola e non inseriamola. Ancora una volta l'Italia e soprattutto gli operatori del settore sono costretti ad assistere a un governo Zelig che ha una confusione mentale che lascia molto a desiderare, signori. Il governo Zelig fa sorridere, ma fa sorridere a noi che siamo qua con i pop corn e una bottiglia di coca cola ad aspettare che andate a casa, ma fa veramente paura al nostro Paese. Il problema, colleghi, è che il governo Zelig non sa neanche di che cosa sta parlando quando parla di ostelli. Il problema grosso è questo, spiegatelo al portavoce, fatevelo spiegare dal portavoce del viceministro Castelli che cosa sono gli ostelli della gioventù, però visto e considerato che non avete tempo, ve lo spieghiamo noi. Gli ostelli sono una risorsa, signori, a livello internazionale. Gli ostelli della gioventù, gli altri Paesi, non l'Italia, che ormai vi state dimostrando di essere abbastanza imbarazzanti anche su questa cosa a livello internazionale. Gli ostelli della gioventù servono, servono perché? Ve lo spieghiamo meglio. Nella famosa legge delega, che dovrebbe essere all'attenzione anche del Senato, è già passata la Camera, la legge delega sul turismo, cosa meno per la seconda volta parlo di turismo, c'era un collega che l'altro giorno, che ieri ha commentato che non parlo mai di turismo. Nella legge delega sul turismo abbiamo parlato di turismo accessibile. Il turismo accessibile non è solamente per le persone affette dalla disabilità, il turismo accessibile, cari colleghi, è anche per le famiglie numerose e soprattutto per i giovani, che sono quelli che beneficiano degli ostelli della gioventù. Quindi gli ostelli della gioventù, i paesi scandinavi, i paesi nordici li finanziano, noi invece li facciamo chiudere. Li facciamo chiudere perché? Perché avete un po' di problemi all'interno del vostro partito. Il problema è che siete talmente incasinati che non ascoltate quello che diceva un signore che era un mito, che si chiamava Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni diceva non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Aspetta prima di commentare. Io ieri non ho fatto comunicati stampa perché conoscendovi aspetto, ho aspettato prima di esultare per questo provvedimento. E di conseguenza ieri avete riempito le agenzie di comunicati stampa. La senatrice parente di Italia Viva esprime soddisfazione per la soluzione positiva. Grande, bello, forse hai una riga su qualche giornale. Il senatore Lanzi afferma che hanno portato l'info al turismo giovanile dal governo toni trionfalistici per aver risolto il problema. E adesso che lo togliete fate il comunicato stampa per chiedere scusa agli italiani o fate finta di niente. Anche oggi, cari colleghi, termino, avete dimostrato all'Italia che i problemi interni al Movimento 5 Stelle stanno bloccando il Paese. Signori, gli ostelli della gioventù vanno oltre ai problemi del Movimento 5 Stelle. Gli ostelli della gioventù sono una cosa seria, cosa che non è il Movimento 5 Stelle. E quindi state facendo fallire il Paese, cari colleghi, dal turismo all'industria siderurgica, dagli ostelli all'Ilva. Andate a casa! Andate a casa! Colleghi, togliete quei cartelli, questore Arrigoni, cortesemente, considerando che è l'unico questore in aula. Grazie. 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 Grazie.